non si, non si ma... non si ma c'è una scelta non si ma... vai ghiero vai ghiero ma non si ma... ma non si ma... ma il mariano dai che salvaggiente l'ha preso o meno male ma ha preso il salvaggente? si 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 tocca la tiratela 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 guarda che è stata la funzione oh è preciso oh la mia vita è presente La pianta, la pianta, la pianta. L'ha presa, l'ha presa. Aiuto, aiuto, sta bevendo. Emitatela. Cazzo, si è finita la se sta. Aiuto, ma cazzo nei furiti. Ma no, questo non faccio nei pianeti. Ma chiamo l'ambulanza. L'ambulanza, perché sei fatta male? Chiamate l'ambulanza. Dove sta? Tropezgo! Cento di notte! Cento di notte! Morta! Mamma mia bella! Si, da lui chiama. Da lui chiama! Ma non! Si, non lo chiama! Si, non lo chiama! Si, non lo chiama! Coraccia, mamma mia Ma l'ambulanza, si l'hanno chiamata l'ambulanza Ma come c'è finita là? Ma come c'è finita? E' qua in mezzo al mare che sbatteva sui scogli, coraccia E' qua in mezzo al mare che sbatteva sui scogli